Corso Social Media Manager. Se stai cercando una guida per iniziare a imparare questo mestiere, sei nel posto giusto. Ciao e benvenuto a questo corso gratuito per diventare Social Media Manager qui su YouTube. Io sono Luca Torna Bene e ho creato questo corso per darti un'introduzione a come diventare Social Media Manager, darti gli strumenti per iniziare e le conoscenze che ti servono per approcciarti a questo mondo. Se sei qui probabilmente sei incuriosito da questa professione oppure è un interesse a lavorare per conto tuo con i tuoi tempi, essere il capo di te stesso e avere tutti i vantaggi che derivano dall'avere una professione digitale ad altissima domanda, specialmente in questo periodo. Questo non sarà un video corso palloso in cui ti faccio vedere come loggarsi su Instagram o come fare clic qui. Sarà un corso montato con un sacco di concetti espressi in maniera chiara e un breve corso studiato per darti le conoscenze di base che ti servono per intraprendere questo percorso in maniera consapevole e professionale. Entriamo quindi nell'azione parlando dei vantaggi dell'essere Social Media Manager. Quindi come avrai intuito, il primo è la possibilità di lavorare da remoto. Questo se non lavori per un'agenzia, anche se recentemente la maggior parte delle agenzie lavora in smart working, avrai ovviamente la libertà di orario, la maggiore flessibilità che puoi immaginare. Avrai la libertà negli orari perché ti basterà pianificare la tua settimana in maniera intelligente e potrai cogliere i frutti del tuo lavoro. Quindi questo significa avere logicamente una pianificazione personalizzata perché potrai dedicare il tempo che serve ai clienti e man mano che diventerai più veloce questa cosa verrà sempre più naturale. Ovviamente avrai un potenziale finanziario illimitato perché potrai scegliere tu i clienti. Potrai decidere se dare il massimo e averne quanti più possibile oppure dedicarti in maniera più granulare a un portfolio ridotto di clienti. Potrai anche offrire consulenze. Potrai decidere se farlo diventare un piccolo lavoretto, lavorare in agenzia, diventare freelancer. Insomma, il bello è che puoi proprio decidere tu. Vediamo ora quali competenze servono. In questo caso un buon social media manager deve avere la capacità di creare contenuti, di scrivere copy, quindi di fare copywriting, che è una abilità essenziale quella di scrivere i testi per i social media, ma anche dei testi persuasivi adatti alla vendita. Dovrai essere in grado di leggere le analytics, quindi di interpretare le statistiche correttamente e infine devi gestire i commenti e il tone of voice dell'azienda che rappresenti. E alcune di queste competenze sono proprio quello che andremo ad approfondire in questo minicorso. Una cosa che ci tengo a enfatizzare, e questo devi saperlo, beh c'è molta disinformazione su questa professione, quindi molto spesso sentirei dire che sono richiesti social media manager con competenze in advertising. L'advertising è una branca talmente infinita su cui concentrarsi che appunto non capisco perché ci sia questa confusione, perché il social media manager fa management, l'advertiser fa advertising. Quindi è un falso mito questa cosa che serve all'advertising. Questa è un'idea che bene che tu sappia. Per questo il social media manager non deve occuparsi delle ads. È un luogo comune falso e pieno di aziende che richiedono una figura che gestisca la presenza social organica e non quella a pagamento. Il social media management e social media marketing o advertising sono due cose distinte. Infine indirizziamo l'ultimo concetto che è quello che non è vero che non si trovi il lavoro nel social media management perché vengono affidati continuamente appalti dalle istituzioni statali con cifre inconcepibili. Le grandi aziende invece sono in continua ricerca di figure professionali da inserire nel loro team di comunicazione e le medie imprese pubblicano ogni giorno annunci in tutta Italia. Se vuoi focalizzarti anche sulle piccole imprese per iniziare, beh, non conoscono le potenzialità dei social media ed è tuo compito spiegargli perché è il perfetto trampolino di lancio per iniziare avere una buona presenza social. Molti non si rendono conto di aver bisogno di un social media manager, non conoscono le opportunità del digital marketing, non sanno di poter acquisire clienti tramite i social media e non sanno che la sola presenza fisica non basta perché sono troppo focalizzati sul proprio lavoro per gestire altro. Se tu sei un una pizzeria, sei concentrato sul gestire la tua attività. Non c'è niente di male. Ora che abbiamo fatto questa piccola introduzione, entriamo a gamba tesa nei primi argomenti. Parliamo della social media strategy, ovvero come stabilire i propri obiettivi. Qui ti ho scritto cosa serve in una social media strategy, come fare un social media strategy plan. Prima di tutto partiamo con una definizione. La social media strategy in sintesi è la definizione degli obiettivi e dei risultati che ci si prefigge di raggiungere attraverso i social. Per creare una social media strategy è fondamentale anzitutto cominciare dalla pianificazione, ovvero stabilire quali sono gli obiettivi da raggiungere, le piattaforme da usare, il pubblico a cui rivolgersi e infine i competitor che dovremmo affrontare. Dopodiché c'è la fase di creazione e pubblicazione dei contenuti e questi due step sono contenuti nel piano editoriale che andremo ad analizzare in una prossima sezione. È cruciale che i contenuti siano di qualità poiché ci serviranno per creare interazione, ovvero engagement e fidelizzazione dell'utenza. Infine abbiamo l'analisi statistica che altro non è che un confronto fra tutto quello che ci siamo prefissati di ottenere e ciò che otterremo. Partiamo dunque proprio parlando degli obiettivi. Ogni attività di social media marketing deve realizzare un obiettivo misurabile per garantire che si stiano facendo progressi. Un errore molto comune è quello di lasciarsi distrarre da metriche come fans e followers ignorando quelli che sono gli obiettivi di business. Il punto è proprio che per avere un quadro sensato bisogna considerare l'insieme dei dati misurando quelli rilevanti e dandogli una struttura. I likes da soli non servono a niente ed è per questo che il principale modello che viene usato in questi casi è il modello di obiettivi SMART. SMART è un acronimo che indica nel concreto degli obiettivi che siano specifici, misurabili, accessibili, rilevanti e temporizzabili. Il significato di ogni tassello è questo. Specifici significa degli obiettivi non generici come ad esempio vorrei aumentare le vendite o vorrei aumentare la mia brand awareness. Questi sono buoni obiettivi ma sono troppo generici. Il modo migliore per inquadrare degli obiettivi specifici è quando ti riesci ad assicurare che rispondano alle cinque W che in inglese significano chi, cosa, dove, quando e quali. In questo caso gli esempi di prima diventeranno più chiari rivalutando i nostri obiettivi in quest'ottica avremo dunque ad esempio voglio creare un hashtag che definisca l'iniziativa della mia azienda per valutare la mia brand awareness oppure voglio programmare una campagna di advertising su Facebook per aumentare gli accessi al mio shop online. Questo nel caso del social media marketing. Passando agli obiettivi misurabili ogni attività che fai sui social deve avere un obiettivo misurabile per garantire che ci siano dei progressi. Quante persone hai raggiunto con il tuo post, quante interazioni hai avuto e così via. Accessibili significa prefissarsi degli obiettivi realistici, rilevanti e che siano congrui con ciò che ti sei prefissato. Infine temporizzabili significa valutare un inizio e una fine per raggiungere i tuoi obiettivi e poterli finalmente misurare. Questi erano gli obiettivi smart. Vediamo ora qualche esempio di obiettivi. Qui ho messo una tabella con degli obiettivi smart a titolo di esempio. Nella prima colonna ci sono gli obiettivi di business, ovvero quelli da raggiungere come impresa commerciale. Subito a destra gli obiettivi social e infine le metriche associate da misurare. Dunque se vogliamo far crescere il brand il nostro obiettivo social in questo caso è l'awareness, ovvero la consapevolezza del nostro brand. Perciò le metriche da misurare saranno i likes, le condivisioni e tutto ciò che coinvolge l'utente nel constatare la nostra presenza. Dopodiché abbiamo trasformare i clienti in sostenitori del brand, un obiettivo che rientra nelle dinamiche social dell'engagement, ovvero l'interazione. In questo caso le metriche da misurare comprenderanno tutte le azioni che l'utente compirà per parlare di noi e interagire nei social a nostro nome. Se vuoi puoi stoppare il video per leggere gli altri. Io intanto nell'interesse del tempo continuo alla prossima slide. Un'altra attività cruciale quando parliamo di social media strategy e crearsi una customer persona. Questo specchietto ci aiuterà a indirizzare mentalmente gli specifici tipi di utente che vorremmo raggiungere con i nostri sforzi sui social. Questo esempio ci aiuterà sia a visualizzare il nostro cliente ideale che ad adattare il nostro contenuto ad esso. È un esercizio che si fa in pressoché ogni disciplina di marketing fatto come si deve. Fingiamo per esempio di avere un blog di ricette vegane. In tal caso un esempio di customer persona può essere Sara, una ragazza fra i 20 e i 30 anni, una studentessa che non ha mai pensato di diventare vegetariana, tuttavia ha molto a cuore il benessere degli animali e si è già interessata in passato alla loro condizione. I suoi bisogni comprendono l'imparare a cucinare, essere più cosciente dei modi di vivere, salutare e cambiare dieta, tuttavia sa che la dieta vegana può essere costosa e lei essendo una studentessa non sa se si può permettere questo stile di vita. Potremmo perciò mettere in atto una strategia social che le fornisca informazioni utili e interessanti, magari delle ricette economiche e sfiziose per mangiare sano, oppure dei piccoli consigli giornalieri su come restare in forma e mangiare in maniera sana. Sara preferisce Instagram agli altri social network perché le piace di più per l'immediatezza e perché è una persona molto visiva, quindi potremmo concentrare i nostri sforzi. Questo è solo uno dei tanti esempi di customer persona che possiamo creare per avere la nostra social media strategi. Subito dopo viene l'analisi dei competitor che è indispensabile per tenere traccia dei nostri concorrenti e capire meglio come superarli e trasformare le nostre strategie per essere più competitivi. Questa tabella si racconta da sola e se vorrai potrei mettere in pausa questo video, fare uno screenshot e compilarla manualmente come vuoi tu. La parte però più importante dell'analisi dei competitor viene subito dopo questa. Concludiamo infatti questa sezione parlando dell'analisi SWOT. Questo modello si basa sull'acronimo Strengths, Weaknesses, Opportunities e Freights, ovvero punti di forza nel primo quadrante, debolezza nel secondo, opportunità nel terzo e infine minacce. Come è possibile constatare i punti di forza vengono dall'interno e sono positivi. In questo caso voglio che tu butti giù quali sono i tuoi punti di forza in un elenco. Nel caso dell'esempio c'è l'expertise nella produzione video e di contenuti di qualità. Subito dopo vengono le debolezze interne, ovvero un basso engagement per ipotesi. Nel terzo quadrante le opportunità. Nel nostro caso potremmo realizzare che i nostri competitor non sfruttino adeguatamente le stories. Infine sotto le minacce per così dire c'è il fatto che il nostro principale competitor ha il triplo dei nostri followers e monopolizza il social di Facebook. Possiamo quindi trarre diverse conclusioni da questa tabella. Potremmo decidere di focalizzare i nostri sforzi maggiormente su Instagram, mettendo in risalto le nostre capacità nella produzione video. Magari lanciare un hashtag per superare il basso engagement con un contenuto altamente stimolante per i nostri followers. Potremmo decidere di colmare le lacune che ha il nostro personale competitor. Finalmente potremmo decidere di lasciare perdere Facebook o tenerli testa su quel campo con altre strategie. Insomma l'analisi SWOT ci consente di portare sul tavolo tutte queste considerazioni. Ecco perché è così importante. Complimenti per essere arrivato fin qui. Come puoi vedere in poco tempo abbiamo già capito che cos'è una social media strategy. Come metterla in atto con obiettivi smart. Come creare una customer persona. Come fare un'analisi dei competitors. E infine che cos'è un'analisi SWOT. Continuiamo con questo corso. In questa sezione parleremo del piano editoriale e come questo ci aiuta a pianificare e visualizzare concretamente il nostro lavoro. Prima di tutto che cos'è un piano editoriale? Si tratta molto fondamentalmente di uno strumento che ci aiuta a pianificare la pubblicazione di contenuti sui social media. Non è altro che un documento. Nella scorsa sezione abbiamo visto la social media strategy che in questo caso copre il primo punto in comune per avere un buon piano. Infatti dopo aver stabilito obiettivi e target definito gli argomenti da pubblicare e stabilito i traguardi da raggiungere il passo successivo è proprio redigere un piano editoriale social. Uno strumento pratico da seguire per potenziare i propri canali e a cui far riferimento come base di partenza. Un buon piano editoriale non aggiunge lavoro in più ma ti risparmia tempo e stress. Averlo significa poter pianificare meglio e essere più costanti il che aiuterà in seguito a creare abitudine per i nostri fans, aumentare l'engagement e seguire i ritmi della tua audience. Fare un piano editoriale significa mettere bene in chiaro la propria visione generale dei canali social e dare vita soprattutto al proprio calendario editoriale. Per creare un piano editoriale occorre stabilire gli obiettivi e categorizzare la tipologia dei contenuti che intendi creare. Questo più nello specifico rientra nel content marketing che vedremo meglio in una delle prossime sezioni. Dopodiché serve comprendere i segmenti demografici interessati al tuo business attraverso gli strumenti di analisi forniti dai social network dal nostro sito web e dallo customer persona. Poi serve stabilire una frequenza di pubblicazione sulle basi di quei dati e infine è opportuno creare una repository di contenuti quindi un Google Drive, OneDrive o comunque un luogo dove coordinarsi per organizzare sistematicamente il contenuto. Spesso succede di lavorare per dei clienti che vorranno avere la possibilità di verificare e rivedere il tuo lavoro per poter decidere se approvarlo o meno. Questo significa che possono cambiare molte cose dalla stesura alla pubblicazione. Per questa ragione suggerisco di avere sempre i propri contenuti pronti circa due settimane prima della pubblicazione. Ovviamente è sempre possibile organizzare in modi complementari come gruppi WhatsApp, email, Hootsuite, Google Drive e così via. Però stabilirlo prima e averlo bene in mente è sempre la cosa migliore. Io per questo segmentino del corso sparisco per una ventina di minuti ma non ti preoccupare perché vedrai la mia faccia molto presto. Adesso facciamo una piccola panoramica dei principali social. Voglio farti vedere i punti di forza di questi social network e anche darti qualche consiglio. Insomma li vedremo in maniera un pochino generica. Cominciamo da Facebook. Facebook ovviamente è la piattaforma istituzionale insieme a Twitter quindi il posto un pochino in cui tutti ci si aspetta di essere. Le aziende di solito vengono cercate qui. Facebook è una piattaforma composta prevalentemente di testo immagini e video ma non ti servo io per saperlo. Soprattutto è composta di link. Il 50% della popolazione italiana usa Facebook e gli utenti italiani trascorrono 50 minuti al giorno in media. Facebook è costituito al 52% da uomini e al 48% da donne. Il 64% delle persone preferisce contattare un'azienda su Facebook invece che telefonare o mandare mail. Questi sono dati abbastanza interessanti. Parlando di post efficaci su Facebook questi sono alcuni dei contenuti più popolari. I video vengono premiati molto. Le immagini sono diciamo la norma per i post per ottenere quanto più riscontro possibile. I link esterni sono efficaci ma tendono a penalizzare se sono l'unica cosa che viene utilizzata perché Facebook vuole aumentare quanto più possibile la permanenza degli utenti sul sito. In questo caso la formula che ti suggerisco è la formula 2 1 e questa la puoi seguire per qualsiasi tipo di contenuto di quelli menzionati prima quindi status video immagini. In questo caso i primi due post devono essere post che suscitano condivisioni like interazioni e così via mentre il terzo post è quello destinato alla vendita. Quindi immagina status video nell'esempio con contenuti piacevoli e poi il terzo sempre piacevole ovviamente però destinato alla vendita. Stessa cosa sotto immagine video qualcosa di a chiappa click e poi infine un articolo che logicamente essendo un link è opportuno che rimandi magari al sito della tua azienda un prodotto insomma qualcosa del genere. Passiamo ora Instagram per fare un'introduzione molto breve. Instagram è più focalizzata sull'immagine quindi è essenziale che l'aspetto estetico sia curato al meglio. Il testo è poco o zero anche se in alcuni casi ci sono persone che usano con efficacia contenuto lungo su Instagram ma fa in modo che l'immagine comunque sia la cosa più interessante da vedere dell'immagine perché poi se metti una descrizione devi assicurarti che sia uno storytelling interessante una curiosità che tenga incollate le persone a leggere anche perché appunto Instagram non è molto fatto di lettori se devo essere sincero però a volte funziona. Instagram è molto fatto di colpi d'occhio ci sono le reels ci sono le stories ci sono i post sono tutti post che devono appunto attirare l'attenzione devi spiccare in mezzo alla massa. La complessità dei contenuti beh spesso è scarsa perché appunto non devi immaginare qualcosa che vada oltre quello che colpisce cioè da una parte è facile perché non devi elaborarti non lo so un contenuto complesso con descrizione eccetera può anche essere di poche parole ma l'importante è veramente attirare l'attenzione e insomma questa è un po' una maledizione da una parte ma dall'altra è una benedizione. Parlando di numeri Instagram ha 28 milioni di iscritti in Italia in costante salita e abbiamo anche qui 49,5% uomini 50,5% donne quindi magari ti sorprende però Instagram è diviso abbastanza equamente. Gli utenti italiani spendono una media di 53 minuti al giorno su Instagram quindi di nuovo anche in questo caso una media abbastanza così uguale. Post efficaci su Instagram io ti direi foto e video quadrati perché è il formato più privilegiato oltre al fatto che occupa più spazio all'interno del feed è proprio privilegiato sotto un punto di vista diciamo algoritmico. Vanno molto le citazioni se vengono incorniciate in una bella immagine. La fotografia di tipo flat lay quindi quando distribuisci degli oggetti o del cibo su un tavolo e li fotografi dall'alto. Le stories sono il principale strumento con cui tenere i fan aggiornati sulle ultime novità e in 24 ore spariscono quindi assicurati di averne sempre un ricambio costante. I post su Instagram devono trasmettere piacevolezza perché le persone di solito sono lì per stare spensierate e infine gli hashtag devono essere in linea con il contesto. Attenzione a non esagerare perché io direi non più di 5 hashtag per foto molte persone invece riempiono e vengono logicamente penalizzate dall'algoritmo. Qualche suggerimento per le stories essendo un contenuto un pochino più grezzo si può semplicemente mettere non so la fotocamera frontale e registrare un video o fare una foto o comunque fare una foto una situazione. Non dovete stare troppo a curarla. L'importante è che le facciate e che siano costanti. Ovvio non buttate la stories brutte perché semplicemente altrimenti la gente non vi considera. È importante usarle con perizia. Un altro avviso che ti do è non comprare followers. Questo vale genericamente per tutti i social network ma specialmente per Instagram dove è una forte pratica quella di comprare appunto followers e non fa altro che di nuovo penalizzarvi nei confronti dell'algoritmo, far perdere credibilità al vostro brand perché ovviamente se andate a cercare con qualche tool la salute del vostro account viene mostrato che perché i followers poi vengono disattivati giorno dopo giorno perdete centinaia e centinaia di followers che magari avete guadagnato in un giorno solo. Vedrete ad esempio dei picchi di 10.000 autenti che mettono like in un giorno e poi pian piano il declino. Questo insomma genera un grande allarme nei confronti di chi ha interesse a collaborare con voi ma poi fa le sue verifiche e capisce che state barando. Fun fact non so se tutti lo sapete ma se vuoi lo swipe up ovvero quella funzione che ti permette di far scorrere agli utenti in alto mentre guardano la tua story per seguire un link beh quella funzione la puoi avere solo se hai più di 10.000 followers. Quindi se vuoi avere questa funzione devi metterti al lavoro perché 10.000 followers sono tantini in molti casi. Passiamo ora a Twitter sinceramente il sito che mi piace di meno ma tralasciamo. In Twitter vige la capacità di sintesi perché il limite per ogni post è di 280 caratteri quindi devi stare attento a essere veramente conciso prevalentemente formato di discorso politico quindi potrei capire perché non mi piaceva ed è popolato da fasce di età più alte. È molto focalizzato sugli hashtag e l'attualità quindi quando un hashtag è trending è opportuno starci dietro e i brand più seguiti sono quelli culturalmente più rilevanti o trending quindi su Twitter è importante che ci siate se siete veramente dei leader di opinione se la gente vi cerca per sapere cosa pensate. Se sei lì invece solo per sciorinare quale politico non ti piace potresti trovarti a casa però io non te lo consiglio. Poste efficaci su Twitter abbiamo GIF hashtag video link e come al solito contenuto di valore alternato a contenuto destinato alla vendita. Non starò ad approfondire ma immagina quanto ti ho detto per Facebook semplicemente più stringato. Passiamo ora a Quora è un social network che è poco conosciuto immaginatelo come una versione migliorata sotto tutti gli aspetti di Yahoo Answer. Infatti è un social di conoscenza fatto di domande e di risposte. La cosa più interessante di Quora è che è molto popolare a livello mondiale infatti conta milioni di utenti che sarebbero più di 200 milioni in tutto il mondo e ha una domain authority se sai qualcosa di SEO molto elevata. Questo cosa significa che se tu rilasci una buona risposta a una domanda su Quora se questa domanda finisce in prima pagina su Google che è molto possibile beh tu avrai veramente moltissima visibilità e questo è il motivo per cui è ottimo Quora per fare branding perché è ben indicizzato da Google. Soprattutto siccome lo conoscono in poche persone c'è bassa competizione per le risposte. Questo significa che potresti andare lì e veramente spadroneggiare o comunque arrivare a una visibilità che non ti aspettavi. La maggior parte dell'utenza pone le domande e visita i vari argomenti mentre chi risponde effettivamente tende a essere una minoranza. Questo significa che è molto più facile mettersi in risalto. Benissimo continuiamo in questo caso smetto di annoiarti con la teoria facciamo un pochino di pratica vorrei introdotti dei concetti che ogni social media manager dovrebbe sapere con degli strumenti che altrettanto ogni manager dei social dovrebbe utilizzare. In questo caso partiamo con Linktree è un servizio che puoi raggiungere all'indirizzo linktr.ee e in questo caso ti permette di fare delle mini pagine in cui puoi aggregare i tuoi link da mettere nelle bio di Instagram. Non so se lo sai ma su Instagram puoi mettere un link solo nella descrizione del tuo profilo e questo è un po' limitante perché su Instagram non puoi allegare i link ai post quindi dovrei sempre scrivere segui il link in bio. Ma il link in bio magari sarà sempre diverso perché dovrei linkare delle cose diverse dei prodotti diversi. Quindi cosa fai lo rimpiazzi ogni volta con quello nuovo? No piuttosto hai un unico link in cui fai vedere quello che vuoi mostrare ai tuoi utenti e in questo caso ad esempio ho preparato una piccola paginetta che ho chiamato appunto linktree slash Luca torna bene fai attenzione perché per single account quelli gratuiti puoi creare un'unica URL ovvero insomma puoi scegliere quest'ultima porzione dopo lo slash e una volta che l'hai nominata credo che non si possa cambiare. Potrei dunque scegliere quali link mettere in questo caso io ad esempio ho scritto il titolo è corso completo di affiliate marketing e poi ho messo il link al mio corso di affiliate marketing. Ora ovviamente questo non è il tool principale che utilizzo perché io uso un servizio che si chiama Shorby e ad esempio ti faccio vedere quello che tu vedi quando clicchi su il link Shorby che si trova nelle descrizioni di ogni mio video qui puoi vedere come scrivete la mia newsletter che si agita pure questo pulsantino per farsi vedere e poi puoi vedere tutti i miei corsi disponibili su Udemy oppure il mio ultimo video su YouTube ti permette di fare una cosina un pochino più articolata quindi che ne so se vogliamo vedere un pochino di opzioni complesse questo è un tool ovviamente a pagamento Linktree invece è gratuito e ha meno opzioni ovviamente. Questo se vuoi ti metto il link per Shorby in descrizione però come vedi a blocchi quindi scegli un pulsante metti l'url puoi scegliere un'icona per questo per questa scheda e poi scegliere un titolo e decidere come questo apparirà ad esempio io qui ho messo che l'anteprima è quella dell'immagine e che si va a prelevare direttamente dal feed RSS del mio canale YouTube quali sono gli ultimi video che ho pubblicato qui ti puoi scrivere al mio canale di YouTube qui puoi qui puoi scriverti al mio canale Telegram di coupon dedicati a Udemy insomma ci sono tutti i miei link social questa stessa cosa dovresti farla su Linktree utilizzando la versione gratuita che però non ti permette altrettante cose penso sempre che sia opportuno mostrare anche le opzioni gratuite in questo caso le opzioni di customizzazione sono poche però puoi scegliere dei template prefatti puoi mettere una bio puoi mettere un titolo e in questo caso ti ci lascio giocare. Passiamo ora a un altro concetto che è quello del link shortening cosa significa? Significa accorciare i link. Io non so se tu hai visto che molto spesso ci sono social media manager che mettono i link grezzi, i link lunghi quindi sarà www.nome sito slash home slash categories slash product uguale 5 3 1 0 insomma non ha senso non lo fare. Ok? Se metti il tuo link in descrizione ti conviene mettere un link shortener un accorciatore di link che tra l'altro ti permette di tracciare anche i click. Quindi tu nel momento in cui crei un link attraverso bit.ly che puoi raggiungere all'indirizzo bit.ly incolli l'url ad esempio che ne so ad esempio non so facciamo finta che voglia condividere questo link tree non è insomma non è quello che farò nella pratica però proviamo lo incollo e lui mi restituisce il link accorciato. Probabilmente l'avrai già visto ovviamente questo quando poi lo incollo si traduce nella pagina di destinazione che è link tree slash Luca torna bene. Se poi andremo a vedere ricarichiamo la pagina e vediamo che ho fatto un click e mi dice pure da dove è arrivato in questo caso dice click diretto la location e in questo caso Italia. Possono essere dei dati preziosi e molti utilizzano link tree perché è quello più diffuso. Continuiamo ora la carrellata dei tool per social media manager passando a Canva è un tool gratuito che ci permette di fare le grafiche e secondo me è imprescindibile per qualsiasi social media manager in assenza di skills di Photoshop di strumenti di grafica un pochino più complicati. Ovviamente nel caso di Canva ci permette di scegliere dei template prefatti potremmo avere dei template per i post su Instagram delle presentazioni dei post di Facebook storie di Instagram quindi tutte le dimensioni ideali per i social vengono rispettate proviamo a cercare un modello ad esempio potremmo cercare il modello di un post di Facebook e qui vabbè non scegliamo un post template perché voglio farti vedere come farle da zero scegliamo un post così generico con queste dimensioni e mettiamoci un nostro caricamento personalizzato in questo caso andrò a rubare l'immagine del mio collaboratore Barbaroffa con cui ho fatto il video corso su come diventare youtuber gli ho chiesto senti mandami una foto perché io qua non ho nulla con cui pasticciare per far vedere insomma come si utilizza Canva e lui è stato così gentile da mandarmi questa e vedrai probabilmente un tutorial simile nel corso di YouTube. Ora noi se andiamo a cercare degli elementi da inserire ovviamente io qui vado completamente a caso questa è una gif ma magari rimuoviamo la mettiamo un elemento statico che è meglio che ne so vediamo un po ma diamogli una bella rosa perché secondo me se la merita per essere stato un bravissimo collaboratore oppure andiamo a creare del testo quindi qui ci sono dei template però potremmo anche aggiungere noi una nostra intestazione e potremmo anche scrivere non lo so il titolo di un post potrebbe essere il problema della deforestazione in Papua Nuova Guinea completamente a caso la prima cosa che mi è venuta in mente forse la stessa gag che avevo fatto nel corso ma tralasciamo noi facciamo contro per selezionare tutto il testo e gli cambiamo colore magari lo mettiamo in bianco perché così è più visibile anzi rettifico forse qui è più opportuno che noi ci mettiamo un effetto tipo un'ombreggiatura ecco vedi è già più leggibile ovviamente dipende da dove lo sposto ma io qui non ti sto facendo veramente vedere come fare un'immagine quindi non torturatemi nei commenti ma ti sto semplicemente facendo vedere quali sono le possibilità con tutti i vari filtri con tutte le varie insomma scelte artistiche che lascio a te decidere perché io sinceramente adopero Photoshop e non lo adopero nemmeno così tanto bene quindi è per questo che ti consiglio di risorgere a strumenti come Canva perché credimi ti salveranno la vita in situazioni in cui non hai le skill necessarie a diventare un grafico è comodo che ci siano strumenti del genere perché permettono veramente di fare qualsiasi cosa qui vabbè potrei cambiare anche lo sfondo potrai ecco vedete questa è la classica immagine da buongiornissimo quanto ci ho messo a farla e sono stato bravo questa che faccio la sport la metto su Facebook che dite vabbè insomma ci siamo capiti pensate che è possibile addirittura fare i video ed è per quello che poco fa avete visto le GIF perché questo ci permette ovviamente di mettere degli elementi mobili e esportarli tramite Canva adesso gettiamo la creatura che ho appena creato nel water mi spiace ma non può vedere la luce del sole deve sparire per sempre voglio farti vedere i template quindi che ne so vogliamo fare una storia su Instagram vediamo un po' qual è quello che ci piace di più boh facciamo questo utilizza questo modello come puoi vedere tutti tutti questi elementi sono editabili spostabili rimpiazzabili ed è bello perché ti piazza anche dei comodi righelli che ti fanno capire anche come sono allineati i vari elementi tra di loro e come al solito può anche cambiarle al volo ad esempio ovviamente facendo doppio click questo hello diventerà un ciao cosa vorresti chiedermi 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 allora quanto porti di scarpe la mia risposta qua ovviamente trascineremo qui e scriveremo non mi freghi stammi lontano oppure ti denuncio questa potrebbe essere la classica storiche pubblicate su Instagram se siete magari un influencer con tantissimi followers e ammiratori segreti magari lo cancelliamo made in canva così non facciamo vedere cioè facciamo finta di sabere usare Photoshop e di essere dei grafici pubblicitari tra l'altro una cosa a cui non ho mai fatto caso puoi prendere addirittura delle foto in questo caso delle foto gratuite da template insomma come potete vedere oppure trovato quella più appropriata adesso anche anche questa cosa è meglio che gli facciamo fare una brutta fine e che torniamo a noi passiamo ora al content marketing ovvero un approccio di marketing strategico che si basa sulla creazione e distribuzione di contenuti di valore al fine di attirare un pubblico di riferimento sul proprio sito web o social network creare una relazione e infine aumentare le vendite partiamo dal fatto più importante sui social conta l'autenticità non servono quindi quelle immagini plasticose da agenzia se un contenuto è troppo pubblicitario la gente se ne accorgerà perché l'origine stessa del social network è quella di connettere le persone quindi devi trattare il tuo brand come un individuo a cui gli altri vogliano connettersi e che venga visto come relazionabile se pensi di entrare su facebook per impressionare le persone con grafiche perfette da tabellone pubblicitario con le modelle mi dispiace deluderti ma la gente su facebook per l'intrattenimento vedi piuttosto quel tipo di approccio come utile per la pubblicità e non per il contenuto organico non servono immagini da catalogo da agenzia non dico che non dovresti farle solo che non è essenziale analizziamo ora le possibili tipologie di contenuto per fare post social quando faccio i post normalmente individuo tre macro categorie per i miei post il primo tipo è un post utile ovvero un contenuto informativo che possa dare valore l'argomento non deve essere per forza il tuo brand ma anche un argomento di attualità un tutorial qualcosa che insomma la gente possa trovare valido il secondo tipo di post è divertente come un meme oppure un contenuto degli utenti infine un post che induce le persone alla condivisione magari per una causa comune ricorda sempre che un buon contenuto deve fornire un valore e non deve per forza essere brand centrico ho aggiunto qualche esempio a questa slide per completezza tuttavia ricorda che questi non sono gli unici post possibili e puoi sempre trovare nuovi modi di fare content marketing per ottenere i migliori risultati puoi sempre combinare le tipologie di post per sortire effetti migliori in qualsiasi forma sia testuale che fotografica oppure audiovisiva passiamo ora alle caption in genere servirebbe un'intera sezione dedicata solo al copywriting ma qui ti farò una piccola anteprima dandoti delle linee guida generali per scrivere il contenuto dei tuoi post in breve vige sempre la regola di essere brevi diretti e creare empatia le persone hanno sempre meno tempo ed è ovvio che nessuno lega tutto ciò che gli capita in home per questa ragione è essenziale essere concisi quindi scrivere un massimo di due tre righe e non oltre è consigliabile usare la forma attiva dei verbi in primis per evitare di dilungarsi e in secondo luogo perché suona meglio è più forte ed è anche più diretta la forma passiva invece normalmente è inutilmente verbosa e goffa diciamo che per creare contenuti efficaci sui social serve davvero essere concisi diretti e usare la forma migliore passiamo quindi in scioltezza al tone of voice ovvero come poter dare una personalità al proprio brand sui propri canali social partiamo prima di tutto da una definizione il ton of voice molto semplicemente è il modo con cui l'azienda comunica la sua personalità attraverso i contenuti abbiamo già visto insieme la social media strategy il piano editoriale e anche un pochino di content marketing ecco diciamo che il ton of voice è il tassello mancante per decidere come scrivere i propri post questo in una maniera coerente con lo stile che ci saremo prefissati come potrai immaginare il linguaggio serve a rispecchiare i valori dell'azienda deve essere in sintonia sia online che offline per cui se stai gestendo un brand affermato è importante e essenziale che tu analizzi bene la situazione focalizzando bene la tua attenzione sulla cultura del tuo brand e gli obiettivi di comunicazione già prefissati prima di capire come individuare un ton of voice vediamo molto rapidamente i vantaggi un ton of voice ben costruito ci permette di avere una maggiore vicinanza con il pubblico perché chi ci segue sarà molto più empatico con noi e più recettivo ai nostri messaggi ma soprattutto vorrà essere il primo a leggerli in secondo luogo questo ci farà ottenere un migliore posizionamento siccome queste interazioni ci aiuteranno a essere visti da più persone tramite condivisioni likes messaggi e così via infine il ton of voice è molto utile a differenziarsi dai competitors perché un ton of voice particolarmente azzeccato renderà unico e facilmente riconoscibile il tuo brand ma soprattutto sarà più convincente questo garantirà un indubbio vantaggio in qualunque delle tue campagne dall'organico al pay per click quindi ti servirà a prescindere che tu faccia l'advertiser o il social media manager arriviamo ora all'individuazione del ton of voice in realtà è molto semplice deciderlo dobbiamo solo fare molta attenzione a questi punti partiamo dalla personalità in senso lato come ti ho già menzionato il tuo brand sui social network deve comportarsi come una persona quindi sarà davvero utile per noi immaginarcelo come un essere in carne ed ossa prima ancora di determinare come farlo esprimere dopodiché ci poniamo alcune domande come ad esempio che sensazioni vorremmo trasmettere? e con questo intendo se gioia o serenità o magari serietà e calma infine è utile ragionare sull'audience a cui ci rivolgeremo e lì riprenderemo la social media strategy per capire nel migliore dei modi come comportarci allora che abbiamo visto il concetto di ton of voice passiamo al copywriting il copywriting è l'attività di scrivere testi nel settore del marketing per catturare l'attenzione del target di riferimento ed è fondamentale per poter effettivamente mettere insieme i pezzi del quadro di come sia più opportuno scrivere i posti in un contesto organico per i social ricorda sempre che quando dico organico mi riferisco a un tipo di comunicazione non a pagamento perciò come rivolgerti ai followers del tuo brand in maniera persuasiva quando possibile è finalizzata all'engagement e possibilmente alla conversione prima di parlare di scrittura persuasiva partiamo un po' dalle regole basilari più conosciute della scrittura sui social introducendo nel frattempo una serie di concetti il primo concetto è quello della sintesi con questo intendo cercare di rispettare quanto più possibile le regole di comunicazione che abbiamo già menzionato quindi idealmente scrivere un massimo di tre righe essere diretto e cercare di usare la forma attiva dei verbi non ha senso dilungarsi troppo ed è una best practice cercare sempre di asciugare il più possibile i propri testi rileggendoli più volte e cercando di capire cosa sia più opportuno rimuovere concretezza invece significa non perdersi troppo nel linguaggio pubblicitario che abbiamo ideato nelle nostre teste con questo intendo evitare di usare frasi fatte o slogan famosi riadattate allo scopo non perderti mai in rendilo tuo per sempre oppure x è il migliore x è per sempre perché se ricordi quello che ti ho detto nelle scorse lezioni il mondo social funziona in maniera diversissima dal mondo dei cartelloni pubblicitari prima di tutto non ti prenderanno sul serio in secondo luogo sprecherai spazio pensa piuttosto a riempire il poco spazio mostrando concretamente i vantaggi di quello che stai offrendo e questo ci porta agli unique selling points o USP gli USP sono delle caratteristiche che definiscono l'unicità del tuo prodotto è fondamentale parlare spesso dei propri USP per mettere al corrente i tuoi follower dei benefici che possono trarre dai tuoi prodotti o dell'unicità del tuo brand rispetto alla concorrenza un altro dei migliori amici di un buon copywriter sono le call to action ovvero dei richiami all'azione una call to action è una breve frase in cui inviti chi leggendo a compiere un'azione le call to action sono fondamentali nel marketing perché spesso capita che l'utente non prenda l'iniziativa di fare qualcosa a meno che non gli venga menzionato direttamente una buona call to action deve essere imperativa breve e diretta un esempio dire a un utente clicca il video o metti like o invita i tuoi amici o in questo caso ti posso dire iscriviti a questo canale che mi farebbe molto piacere e così via infine abbiamo la coerenza del tono voice con cui ormai sarai familiare ora arriviamo dunque a come scrivere in maniera persuasiva e teniamo benissimo a mente che non è sempre fondamentale proprio perché scrivere per i social non significa sempre scrivere per vendere è utile essere a conoscenza di qualche tecnica tuttavia non è fondamentale ricordare ogni 5 minuti di comprare qualcosa proprio perché nell'organico questo è un approccio considerato troppo pubblicitario cominciamo dicendo che per essere persuasivi e convincere la conversione ai propri followers è molto importante descrivere soluzioni ai problemi questo significa porre l'accento su un problema entrare nella testa del lettore spiegando i vari disagi che provoca qualcosa infine convincerlo che il nostro prodotto è quello ideale per risolvere questo inconveniente l'avrei già visto un milione di volte e vado accetto spesso con il porre domande come ad esempio rischi di perdere la casa? sei stanco di x? e così via occhio a non renderle troppo altisonanti o inquietantemente specifiche altrimenti potresti stranire il tuo pubblico subito dopo viene il toccare le emozioni che significa soprattutto raccontare come ci si sente facendo una determinata azione o usando tale prodotto la freschezza, l'odore del pulito, la sensazione di libertà e così via un'altra tecnica molto utile è creare urgenza che significa in sostanza dire al tuo utente che una certa offerta non ci sarà per sempre convincendolo pertanto all'acquisto infine abbiamo la descrizione dei benefici e attenzione perché dico benefici e non features o funzionalità quando descrivi un prodotto dovresti spiegare quello che puoi ottenere con esso e non semplicemente dire le fredde caratteristiche di qualcosa suona meglio dire puoi mettere 8000 canzoni nel tuo iPod oppure dire che è dotato di 8 giga di memoria vorrei infatti concludere questa slide con la seguente citazione per stimolarti una riflessione a riguardo la gente non vuole un trapano ma vuole un buco nel muro come avrai capito è molto importante sapere attirare l'attenzione e far sapere cosa possiamo offrire ai clienti potenziali ma in fondo non è tutto quello che ci vuole specialmente nei social media ora che abbiamo visto brevemente che cos'è il copywriting parliamo di crisis management ovvero di come comportarsi nel momento in cui subentra un momento di crisi per il vostro brand sui social partendo da una semplice definizione la crisi social nasce dal momento in cui le domande poste dagli utenti nei confronti di un'azienda o di un brand non trovano risposta nei tempi e nelle modalità corrette è qualcosa che potrebbe succederti quando un messaggio non viene compreso e l'eco di questa incomprensione presto diventa virale è fondamentale capire prima di tutto che proprio usando il termine percezione questo significa che la reputazione non è data da ciò che fate ma da ciò che gli altri pensano o dalla percezione che hanno di voi tutto quello che fate online è reputazione ora passiamo al concreto come agire quando entra in atto una crisi social per il tuo brand ho scritto alcuni punti fondamentali da seguire questi vengono spesso sbagliati dalle aziende più grosse perciò ti prego di non sottovalutarli prima di tutto non dovresti mai censurare gli utenti cancellando i loro commenti è molto facile che se ne accorgano e venga sortito l'effetto opposto c'è addirittura un nome per questo fenomeno si chiama effetto Streisand ovvero quando nel tentativo di censurare o rimuovere un'informazione se ne provoca al contrario un'ampia pubblicizzazione involuta in secondo luogo viene l'ammissione degli errori questo significa che non dovrai mai negare le cose che sono successe ma semmai spiegarle e trattare il tuo pubblico come delle persone a cui devi chiedere scusa evidenzando i comportamenti sbagliati che sono stati messi in atto è quello che farai per evitarli in futuro non è così difficile ricorda sempre che il tuo brand è una persona come ti ho spiegato nelle sezioni precedenti dopodiché deve avvenire un monitoraggio costante delle conversazioni per comprendere meglio cosa stia dicendo il pubblico del tuo brand e come poter rispondere in un secondo momento a eventuali accuse o punti critici da risolvere quando arriverà il momento di scrivere delle risposte è opportuno che queste siano chiare e che non lasciano adito a ulteriori dubbi o fraintendimenti rispettando i propri interlocutori e senza prenderla sul personale nel momento in cui la crisi sarà rientrata sarà opportuno fare un debriefing ovvero un confronto finale con il resto del team o con il proprio cliente per riassumere cosa sia andato bene e cosa sia andato male ma soprattutto come comportarsi in futuro questo ci porta infine all'adeguamento del piano editoriale una modifica cruciale che eviti l'esasperazione della situazione o ripresentarsi di critiche dovute a quanto già successo ora passiamo dalla teoria alla pratica con qualche esempio concreto ad esempio abbiamo mele gatti che un giorno pubblica questa cosa senza senso senza nessun obiettivo e senza nessuno scopo sono quello di probabilmente agitare le persone perché c'è scritto ama il tuo prossimo come te stesso basta che sia figo e dell'altro sesso volete sapere come ha risposto mele gatti al casino che ne è venuto fuori con riferimento al post di questa mattina mele gatti spa chiarisce che la gestione della comunicazione sui social è affidata a un'agenzia esterna che ha pubblicato senza autorizzazione dalla parte dell'azienda si dissociano dall'operato di tale azienda e sollevano dall'incarico scusandosi formalmente con chiunque si sia sentito offeso dal contenuto insomma non è una risposta tanto male però ti invito a leggere il commento di Giorgio Serafini complimenti per la risposta mele gatti è raro trovare qualcuno che ammette i suoi errori e si scusa beh vuoi sapere chi è Giorgio Serafini? era il direttore di marketing della mele gatti quindi insomma non pensare mai che il tuo pubblico sia stupido e non si renda conto di cose del genere il prossimo esempio è quello di Piovono Zucchine quindi un ristorante vegano che dopo un grave terremoto in centro Italia ha deciso di scrivere dolcetto o terremoto insomma anche in questo caso le risposte non hanno esitato ad arrivare moltissima gente logicamente incazzata, logicamente indignata e vorrei che ci focalizzassimo sulle scuse in questo caso perché leggiamo a noi non interessa se sta infestitendo qualcuno forse questo passaggio non vi è chiaro lei sta facendo qualcosa per le marche oltre che indignarsi e condividere post sul terremoto ha mangiato tranquillamente a casa sua con la sua famiglia e comodamente seduta a indignarsi di quello che fanno gli altri bene, continui a fare quello che fa noi facciamo altro ora, secondo te questa è una risposta con cui si può empatizzare? cioè, ha senso rispondere in questa maniera? assolutamente no è una risposta tremenda e quindi non ha fatto altro che esasperare questa crisi oppure notiamo anche la presenza di Turpiloquio ad esempio in un altro commento scrivevano Antonio, ma di quale saccenza parli? ma ti rendi conto di cosa è stato vomitato in un minuto? quindi cercare anche una giustificazione come se fossero loro le vittime non capire una locandina per un evento è un conto dire che noi lucriamo sulle tragedie è un'altra ma di che cazzo parliamo? abbiamo organizzato questa cosa come nel nostro stile l'abbiamo comunicata non vi piace? volevate spiegazioni? bastava chiedere su via insomma, la risposta stizzita con l'uso di parolacce penso che chiunque si accorgerebbe che non è il luogo o l'evento giusto per parlare in questa maniera soprattutto non è il contesto non ha senso per nessuno risorgere al Turpiloquio nel social media management insomma sembra di star parlando di cose banali ma in realtà credimi che non lo è l'esito questo lo puoi vedere anche a distanza di anni è una stella e mezzo come recensione della pagina e se cerchi piovono zucchine su Google questo è uno tra i primi risultati un vero e proprio scandalo un fallimento su tutti i fronti qualcosa che non dovrebbe mai verificarsi vediamo ora un ultimo caso di crisis management questa volta uno gestito bene Findus e Vileda boicottate i bastoncini Findus fan Movimento 5 Stelle contro gli sponsor di L'Area che tira diciamo che c'è stato una sorta di iniziativa da parte di un gruppo affiliato al Movimento 5 Stelle che siccome nell'Area che tira questo programma televisivo si è parlato male di alcuni esponenti del Movimento i fan della politica esagitati hanno invitato gli altri a boicottare gli sponsor del programma che in realtà non sono sponsor del programma semplicemente nella pubblicità vengono comprati degli slot di tempo e questi poi vengono distribuiti dall'emittente televisiva lungo la giornata analizzando le reazioni abbiamo un commento che dice siamo più di 10 milioni di cittadini uniti non guardo il programma alla 7 l'aria che tira per colpa della cattiva e sbagliata informazione della conduttrice e non comprerò mai più i vostri prodotti saluti vabbè evitiamo di analizzare la forma perché è al limite dell'australopiteco ma qui la risposta è caro utente ti ringraziamo per la segnalazione Findus si impegna a offrire sempre il meglio ai suoi consumatori e non abbraccia alcuno schieramento ideologico o politico la nostra pianificazione pubblicitaria copre diverse reti e canali senza privilegiare nessun programma rispetto a un altro ci dispiace che tu sei rimasto deluso dall'aver visto andare in onda un nostro spot nel corso di una trasmissione di cui non condividi la linea editoriale il team Findus ecco come puoi vedere è molto facile indicare che cosa va male nella comunicazione ma quando si tratta invece di una comunicazione del genere beh è perfetto è impeccabile non c'è niente che possiamo criticare in questo caso ed è effettivamente un ottimo esempio di come andrebbero gestite queste situazioni anche perché poi le reazioni di solidarietà non sono mancate un'altra non comprerò più i vostri prodotti finché sponsorizzate trasmissioni come queste ciao Nadia ti ringraziamo per la segnalazione ci teniamo a comunicarti che non sponsorizziamo il programma da te citato ma acquistiamo degli spazi pubblicitari all'interno di fasce orale già stabilite in ogni caso valuteremo come orientarci sperando di aver chiarito l'equivoco ti inviamo i più cordiali saluti quindi la gentilezza, lo spiegare senza giudicare, senza insultare senza confrontarsi in maniera scontrosa queste sono le doti di un buon social media manager e infatti in maniera congrua con i commenti la dichiarazione finale di Vileda è stata a seguito delle segnalazioni di alcuni utenti relative alla messa in onda di uno spot durante l'interruzione pubblicitaria di cui non condividono la linea editoriale Vileda tiene a precisare che non abbracciamo nessuno schieramento ideologico o politico e chiarisce inoltre che non è sponsor della trasmissione citata e che la sua pianificazione pubblicitaria prevede l'acquisto insomma avete già capito ribadire quello che è già stato spiegato nei commenti avere un approccio personale e granulare anche ai commenti cercare di rendere le risposte gli emblemi della personalità del brand e quindi in sintesi sposare questi concetti nel modo migliore per far sì di uscire dalla crisi indenni infatti come dicevo prima il sostegno è arrivato alla fine perché moltissime persone hanno detto vado a fare provviste dei vostri suggelati addirittura rendendo questa da una situazione avversa in realtà un'opportunità per fare ancora più promozione spettabile azienda non sono mai stato vostro cliente ma a questo punto mi sembra mio dovere civico diventarlo davanti al bullismo dilagante qualcuno parla anche di squadrismo politico insomma persone che arrivano a porsi in opposizione diretta a questa dimostrazione di ignoranza con comprensione con affetto per il brand e questo è il tipo di sostegno che vi aspettereste non so nei confronti di una persona sostanzialmente e quindi è andato tutto per il meglio arriviamo ora verso la conclusione del corso ancora congratulazioni per essere arrivato fin qui continuiamo su come trovare i clienti accenneremo dei modi per proporsi come social media manager infatti moltissimi quando fanno corsi simili a questo si sentono intimoriti dal fatto di non avere esperienza quindi finiscono per trovarsi in quella situazione un pochino spinosa in cui hanno acquisito le abilità e le competenze per lavorare nell'ambito ma non hanno potuto metterla in pratica perché non hanno trovato dei clienti normalmente molti formatori non si prendono veramente a cuore per davvero di far trovare il lavoro ai propri studenti e propongono in maniera abbastanza superficiale almeno a parer mio di adottare i classici strumenti per bombardare a tappeto quanti più potenziali clienti possibile per proporre i propri servizi io li elenco qui solo perché a parer mio perché alle prime armi non funzionano proprio e sono ormai obsoleti diciamo che è il metodo pagine gialle quello del cold calling quindi cercare l'elenco telefonico delle aziende e proporsi come social media manager però qui ti dico una cosa ma secondo te se tu chiami al telefono se scrivi su messenger, instagram, sui social in generale cerchi le persone che hanno un'azienda su linkedin le bombardi di mail ma questo dimostra davvero che sei un bravo social media manager secondo te è un po' impertinente come approccio e infatti il tipo di persona che viene poi indirizzata in questa maniera dice ma questo sicuramente non ha nulla da offrire se si deve proporre in questa maniera quindi anche questo deve far girare un po' gli ingranaggi come ragionamento mentre invece la maniera metodica che è quella che utilizzo io è identificare i clienti con cui ti vorresti interfacciare cercare delle attività idonee a essere seguite questo implica fare un'analisi fare un'analisi creando ad esempio quegli strumenti che ti ho spiegato poco fa come fare una social media strategy basandosi sui punti deboli i punti di forza della pagina associata al business che magari esiste già oppure potresti, non lo so, farla da zero quello è un pochino impegnativo ma se proprio ci tieni potresti farlo di conseguenza effettuare un'analisi della loro presenza social e poi contattarli mandando un report gratuito questo è molto visto bene perché fa capire logicamente che c'è interesse che c'è competenza e finiresti addirittura per diventare poi indispensabile per queste attività ricorda e tieni bene a mente che per convincere un imprenditore non devi promettergli likes non devi promettergli di avere una bella pagina perché a lui non interessa all'imprenditore interessa aumentare il fatturato quindi come la sua pagina social è importante per la sua attività non devi convincerlo ad assumerti non devi supplicarlo ma devi fargli capire che ha bisogno di te e devi fare in modo di fargli capire le tue competenze ora il tempo a nostra disposizione purtroppo è poco infatti concluderemo qui questo corso introduttivo ci tengo a ribadirti che questo essendo un corso introduttivo ovviamente non abbiamo il tempo né le possibilità per spaziare su tutti gli argomenti e analizzarli nello specifico ma se ci tieni a continuare il tuo apprendimento nel link in descrizione ti ho messo il link al corso completo di social media management per diventare a tutti gli effetti un social media manager è un corso affrontato con le stesse modalità che hai visto in questo video approfondiremo le varie piattaforme ti farò avere anche un prezioso documento per creare il tuo calendario editoriale questo sarà un template che potrai usare in qualsiasi momento ti spiegherò passo passo in un capitolo ad ampio respiro come creare i tuoi contenuti dalla A alla Z dal creare le immagini al fare i video all'usare gli strumenti più comodi per fare effettivamente il social media manager in maniera agevole continueremo questo capitolo in cui ti guido passo passo nel modo migliore per proporsi come social media manager e come creare la reportistica per i clienti o per le agenzie e infine avrai un certificato finale di completamento che potrai mettere su LinkedIn o sul tuo CV la cosa migliore è che questo corso te lo voglio offrire a un prezzo speciale per chi sta guardando questo video voglio proporvi un prezzo speciale diciamo il prezzo di una pizza e di una Coca Cola quindi totalmente abbordabile si tratta di un corso on demand illimitato che potrai consultare quando vorrai e comprende tutti gli aggiornamenti futuri a vita ma soprattutto è presente una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni se ti è piaciuto questo video ti invito a iscriverti per ricevere gli aggiornamenti futuri e se vuoi seguire i miei progetti e ricevere occasionalmente dei bonus ti invito a iscriverti alla mia newsletter sempre nei link qui in basso con la newsletter ti arriverà anche un prezioso ebook chiamato il glossario per social media manager che comprende tutti i termini più utilizzati e che tutti dovrebbero sapere se vogliono entrare in questo business io colgo di nuovo l'occasione per ringraziarti e congratularmi con te noi ci vediamo nel prossimo video e spero di accoglierti nel mio corso